Oggi il Catania Day, una giornata a sostegno della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le regionali del prossimo 5 novembre in Sicilia. Protagonisti Beppe Grillo, Giancarlo Cancelleri, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio. La manifestazione ha preso il via al Campus College d'Aragona per poi proseguire con una passeggiata di 10 km da Citrezza, via Lungomare dei Ciclopi, altezza Porto Nuovo, con arrivo stimato intorno alle 19 a Catania in piazza Università dove alle 21 si terrà anche il comizio di Beppe Grillo. Sul palco anche il candidato alla presidenza della regione siciliana Cancelleri, il candidato premier Di Maio e del deputato Di Battista. Ieri pomeriggio intanto blitz di poco più di un'ora del segretario del PD Matteo Renzi a Catania a sostegno del candidato alla presidenza della regione Fabrizio Micari Chi parla di voto utile, chi vota tutto a sinistra, poi non può meravigliarsi, ha detto, se il 6 novembre la Sicilia avrà un presidente della regione di destra. Se vogliamo fermare la destra, evitando un salto nel buio, il voto utile è quello a noi, il modo più credibile e utile, fermando estremismo e populismo.